Con 217 sì, 49 e 4 astenuti, l'Aula del Senato ha approvato la fiducia al decreto legge sulla spending review che ha incamerato anche il decreto sulle dismissioni di Stato. Sono più di 2000 emendamenti discussi in meno di 5 giorni per uno schema di risparmio da 4 miliardi e mezzo che ha scongiurato così l'aumento dell'IVA e secondo le previsioni dei tecnici rimetterà in pareggio le casse dello Stato. Tra le principali novità l'aumento delle tasse universitarie a sorpresa. Non saranno soli fuori corso a pagare ma tutti gli iscritti con un reddito familiare superiore ai 40 mila euro e rette raddoppiate per chi dichiara oltre i 150 mila euro. Farmaci, dopo le polemiche di ieri, il testo ha previsto sì l'obbligo di prescrivere il principio attivo ma anche la facoltà di indicare, sempre da parte del medico, la marca del medicinale. Settore pubblico cambiano i requisiti per le province, dovranno avere almeno 350 mila abitanti ed un'estensione di 2.500 chilometri quadrati mentre una scure di 7,2 miliardi di euro si abbatte su regioni e comuni. Le otto regioni in disavanzo sanitario potranno tuttavia rifarsi sull'IRPEF aumentandola fino ad un massimo dell'1,1% mentre i municipi in difficoltà potranno avvalersi di un fondo di 800 milioni. Le risorse verranno prese dai tesoretti destinati ai comuni virtuosi e dal fondo sui rimborsi fiscali. Il provvedimento passa ora alla Camera, l'obiettivo è di poterlo licenziare già in settimana.